Perché i cittadini dovrebbero votare per te? Perché penso di aver messo a disposizione della città le mie competenze, la mia passione, quindi questa può essere un'occasione giusta per provare a modificare un po' l'andazzo che c'è stato in questa città nel corso degli ultimi anni. Sono una donna nata e vissuta a Rovigo che ama la propria città. Sono abituata a organizzare, coordinare, programmare, a sentire tutte le istanze, a mantenere un aspetto tecnico ma allo stesso tempo umano, perché per me prima di tutto c'è la persona che va rispettata e valorizzata. Perché i cittadini non dovrebbero votare il tuo avversario? Perché rappresenta la continuità con l'amministrazione passata. Il partito di maggioranza relativa all'interno della sua coalizione è lo stesso che ha deciso di sostenere Bergamin fino all'ultimo secondo, al punto tale che hanno deciso di espellere sei militanti perché avevano deciso, avevano usato, votare contro il sindaco uscente. Il mio avversario è un bravo e stimato professore, però non ha nella sua vita l'esperienza che serve per governare questa città. C'è bisogno di una persona concreta che sappia stare in mezzo alla gente, con la gente, che abbia vissuto i problemi, che li capisca, ma allo stesso tempo abbia le capacità tecnico-professionali e la determinazione di portare a compimento gli scopi che mi voglio prefiggere e per cui mi impegnerò. Spiega le tre priorità del tuo programma elettorale. Attenzione alle persone, alle esigenze e ai bisogni, alla tutela delle loro esigenze. Le persone vivono all'interno di una comunità, bisogna recuperare un senso di comunità per la nostra città, con un'attenzione particolare al mondo dell'associazionismo e al fatto che i cittadini sono una risorsa e quindi politiche importanti di partecipazione attiva. Tutto questo deve essere coniugato in un'ottica di innovazione, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista tecnologico. I tre punti qualificanti del programma sono la sicurezza, la qualità e il lavoro. La sicurezza come vita vissuta in protezione civile, ma anche sicurezza per le nostre strade, per i nostri anziani, l'ambiente e la qualità dei prodotti. Le nostre eccellenze polesane, rodigine, delle persone culturali, ambientali meritano di essere riconosciute, rilanciate, per garantire possibilità di lavoro, di occupazione e di attenzione per la nostra città, per il nostro comune. Come sarà composta la tua giunta? La mia giunta sarà composta da sette assessori, non otto, perché sette persone che lavorano attivamente sono comunque in grado di coprire tutte le esigenze della città, perché queste devono avere delle competenze specifiche, ognuno per i referati che saranno loro attribuiti. Ci saranno quattro persone scelte dalla società civile e tre persone, ciascuna delle quali provenienti da una delle liste che supportano la mia coalizione. Non ci sarà continuità amministrativa rispetto al passato. Ogni persona all'interno della giunta dovrà essere estremamente preparata per gestire i problemi che si troverà ad affrontare. Sono abituata a lavorare in squadra e a coordinare la squadra. A ogni persona do sempre il giusto merito per competenze e capacità. E così sarà anche per la giunta di Rovigo. Terò conto dei meriti, delle proprie attitudini e del risultato che è emerso anche dalle urne, per rispetto ai cittadini che hanno dato il voto. Non penso che darò subito tutte le deleghe, probabilmente i primi mesi qualcuna la terrò. Per esempio la protezione civile potrei tenerla io, proprio per evitare di dare incarichi su tematiche delicate che meritano di essere approfondite e gestite con esperienza. La prima cosa che farai se diventi sindaco? Non è una cosa pratica, è soprattutto un messaggio. La prima cosa che succederà se divento sindaco è che dai balconi di Palazzo Nodari scenderà la scritta verità per Giulio Reggeni. La prima cosa è conoscere bene il comune, tutti i dipendenti del comune, partendo dalle figure apicali, ma anche come è strutturato a livello di servizi, di organizzazione, come sono messe le pratiche, soprattutto quelle più delicate, quelle che meritano attenzione, perché i cittadini devono avere risposte. Partendo dalla conoscenza farò una valutazione per poi poter procedere a riorganizzare, efficientare la macchina amministrativa comunale in maniera efficace, trasparente e qualificante, perché possa offrire i servizi che i dipendenti stessi vogliono offrire al proprio comune. Quale futuro immagini per il centro storico? Sicuramente un futuro più abitato per il centro storico. Abbiamo bisogno di riattivare il commercio, abbiamo bisogno di fare in modo che la gente sia incentivata a frequentarlo. Questo implica riuscire a costruire un progetto di mobilità urbana che sia sostenibile, un'isola pedonale ampia che consenta alle persone che decidano di utilizzarlo anche come un centro commerciale naturale in totale libertà e sicuramente un centro storico più vivo rispetto a quello che abbiamo ereditato dalle amministrazioni passate. La visione di città che ho è di una città sempre a misura Duomo, ma più bella, qualificata, dove il decoro urbano la faccia da padrone perché possa essere accogliente, vivibile, non solo per chi ci abita, ma per chi vuol venire a visitare, per chi magari vuole trovare anche lavoro, servizi, commercio. Quindi partirò dal sistema infrastrutturale delle strade, delle piste ciclabili, l'illuminazione, ma pensando al sistema delle piazze, al sistema delle fontane. Gli esempi che vi porto sono quelli legati al recupero di alcune progettualità, per cui ci sono già finanziamenti come piazza Duomo, ma possiamo pensare alla copertura di piazza non aria per poter rilanciare quella zona che ha bisogno di impulso. Pensatela collegata alla piazza Merlin, dove c'è la fontana, un gioco di luci che faccia da sfondo in eventi particolari e periodici, ragionando a livello urbanistico con tutte le leggi, le normative di settore, che vanno a non consumare ulteriore suolo, ma a riqualificarlo. Pensiamo di partire prima dalle proprietà comunali, quindi dagli ambiti, per quanto riguarda i parcheggi, le strade e le piazze, che sono proprio il patrimonio del comune di Rovigo. Poi nel medio e lungo termine si porterà avanti le proceduralità più complesse, che richiedono ovviamente tempi più lunghi e a volte anche con partecipazione da parte dei privati, con cui troveremo l'accordo. È opportuno, utile e necessario che ci sia la città che partecipa attivamente al rilancio della città. Università e lavoro, come fa a rimanere i giovani a Rovigo? L'unico modo è far sì che i ragazzi che sono riusciti a costruire una propria carriera di natura accademica, che quindi hanno messo a frutto i loro talenti e abbiano la possibilità di trovare dei lavori di qualità anche all'interno della nostra provincia, cosa che purtroppo da troppo tempo non accade. Coniugare i progetti percorsi di formazione con scelte insediative di natura produttiva in modo intelligente è sicuramente l'unica strada possibile per far sì che i nostri ragazzi siano messi nelle condizioni di poter scegliere, se lo vogliono, di trovare un proprio percorso di carriera anche lontano da qui, ma questo sicuramente non deve essere un obbligo. L'università è un'opportunità per i giovani di migliorare e approfondire le conoscenze negli ambiti che a loro interessa, però mancano alcuni indirizzi universitari a Rovigo legati al nostro territorio e sarà mia cura parlare con l'università per istituire questi corsi, perché è più facile andare incontro alle domande che il mercato del lavoro pone perché i giovani possano trovare più facilmente lavoro. Poi possono anche fare esperienze altrove, ma è giusto che trovino nel proprio territorio, nella propria terra, la possibilità di lavorare e di mettere a frutto queste esperienze. Un altro aspetto è l'approfondimento dell'alternanza scuola-lavoro per le scuole superiori, perché prima di andare all'università c'è la scuola superiore, quindi bisogna pensare anche a quei giovani e, viste le richieste del mondo del lavoro che non trovano sempre ascolto, è opportuno lavorare in questa direzione perché dopo la scuola superiore questi ragazzi trovino lavoro, per esempio, nei settori artigiani che più ne fanno richiesta. Cosa ne sarà dei grandi spazi abbandonati come l'ex caserma e l'ex piazzale delle Corriere? Sicuramente dobbiamo ragionare in un'ottica unitaria, non sono singole caselle che si possono aggiustare senza tenere conto di quello che succede anche in tutte le altre parti del complicato puzzle che in questo momento è la struttura urbanistica della città. Per venire alle domande specifiche, dentro l'ex caserma Silvestri il Demanio ha già fatto alcune scelte, sappiamo esattamente quali saranno le funzioni che verranno portate lì, c'è da decidere se questo poi potrà essere utilizzato anche come un'area di sosta a supporto della pedonalità del centro storico. Per quanto riguarda l'ex stazione delle Corriere, si potrebbe anche pensare di trasformarlo in un parco urbano, ci sono modi anche intelligenti di usare i grandi vuoti che abbiamo senza necessariamente cementificare ancora. Grandi spazi abbandonati possono essere visti come un punto di forza e un punto di debolezza. Se noi rivasciamo il problema, pensiamo che abbiamo dei grandi spazi e anche palazzi molto belli, qui possiamo ridisegnare la città. Allora, da una parte abbiamo un'edilizia giudiziare, un'edilizia militare sotto il Demanio e quindi il Comune può interagire, confrontarsi con le istituzioni preposte perché rimangano nel centro storico, in maniera da non svuotare ulteriormente il centro cittadino. Dall'altra abbiamo il sistema dei parcheggi. Il sistema dei parcheggi è funzionale all'utilizzo della città e al raggiungimento dei servizi, del commercio, delle imprese che si trovano in città e nelle frazioni. Quindi un sistema diffuso di parcheggi consentirebbe di gestire meglio anche la viabilità e di poter realizzare le piste ciclabili, di completarle. Questo ha doppi benefici, migliore scorrevolezza, bisogna partire dal piano del traffico, dal piano del verde in maniera congiunta, dall'altro canto una mobilità lenta, sostenibile e quindi un migliore qualità dell'ambiente, dell'aria, che è un aspetto molto importante, a cui tengo molto. E quindi il piazzale di Vittorio è un parcheggio, è ritornato a essere un parcheggio, va sistemato, va sistemata l'illuminazione per poter accedere o uscire dal parcheggio in multipiano in maniera sicura per tutti. Probabilmente bisogna pensare anche delle videocamere, quello che serve insomma per poterlo rendere più fruibile, perché gli spazi che sono presenti a Rovigo consentono di riqualificare il centro storico e renderlo più vivibile, ma anche più appetibile per gli investimenti. Come pagare il debito causato dal Lodo Baldetti? Avremmo potuto pagare una parte molto più limitata, se il buon Bergamini avesse deciso di prendere delle decisioni altre rispetto a quelle che ha preso. Detto questo, nel corso del tempo sono stati accantonati i fondi per la copertura delle spese che sono state chieste da Unipol Banca, nel caso in cui ci fosse soccombenza sarà necessario verificare se effettivamente la somma complessiva è quella che era stata preventivata, credo che sia necessario esplorare tutte le possibilità di ulteriore trattativa per provare a limitare i danni che ormai sono in qualche maniera stati causati. Nel 2006, in giunta c'era l'assessore Romeo, venne approvato il progetto. Questo a considerare la bontà del progetto di realizzazione del polo natatorio. Nel 2009 dovevano essere cedute le aree dell'ex Baldetti, cosa che non è stata fatta, purtroppo c'era giunta Merchiori, avranno avuto motivo, sta di fatto che il sindaco Piva si è trovato un ritardo che ha portato all'inizio del contenzioso, il famoso Lodo Baldetti. Siamo arrivati ad avere, per fortuna di tutta la città di Rovigo e grazie ai sacrifici che ha fatto l'amministrazione precedente e anche dei cittadini di conseguenza, l'accantonamento della somma massima che è ipotizzabile per poter chiudere Lodo Baldetti. Questo vuol dire che se l'arbitrato consentirà di abbassare la somma richiesta, ci saranno addirittura delle economie. Quindi questo verrà rimesso in disponibilità dell'amministrazione comunale e quindi della città. La somma c'è, il Comune non rischia più il dissesto finanziario. Abbiamo superato anche il periodo del patto di stabilità, si possono fare anche assunzioni, quindi ho intenzione anche di agire su questo fronte perché i servizi si danno col personale. Abbiamo avuto una contrazione di personale dipendente di cui bisogna tener conto. Quale sarà la nuova identità di Rovigo? A me piacerebbe che la nuova identità di Rovigo fosse su scala più ampia quello che sta già succedendo in maniera limitata in alcune zone della città. Penso che quello che sta succedendo al Censel in questo momento sia un bel biglietto da visita di quello che potrebbe accadere. Una città in cui la cultura e l'impresa di natura culturale possa essere un vero motore di sviluppo. Abbiamo delle eccellenze straordinarie, abbiamo dei giovani bravissimi, abbiamo delle persone che sono in grado di mettere a frutto i loro talenti. In ambito culturale possiamo creare una strategia partendo da ciò che già abbiamo e cercando di valorizzarla quanto più possibile. È possibile riuscire a fare impresa anche con questo? Non è vero che con la cultura non si mangia. Con la cultura si può fare anche impresa e rendere più intelligente la nostra città. Una città a misura Duomo, smart, più moderna, tecnologicamente utilizzerà le tecniche moderne che mancano, sarà più pulita, più rispettosa dell'ambiente, più attenta alla persona nelle sue varie declinazioni e età, sarà una città più decorosa e sicuramente avremo meno buche, perché mi impegno assolutamente a risolvere questo aspetto che è fondamentale perché non possiamo correre in bicicletta o in macchina e rischiare di farci male ogni volta che usciamo di casa. Saluta il tuo avversario. Bene, approfitto per salutarla in diretta, poi magari ho visto che uso molto il cellulare, quindi le manderò un messaggio. Professore, è stata una bella sfida, ci ritroviamo comunque, vada in consiglio comunale e vi ti accorgerai che sono una donna determinata e sono completamente diversa dal mio predecessore. Buona giornata.